Ben ritrovati a voi tutti ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni. Abbiamo il piacere di avere nuovamente in studio con noi Milena De Zanet, Sindaco di Limana, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Grazie a voi. Ben trovata Sindaco, partiamo innanzitutto con il tema caldo, ovviamente mi riferisco alla pandemia da Covid-19. L'amministrazione in questo tempo ovviamente è stata vicina alle famiglie, alle imprese, al territorio, insomma per quanto ha potuto per cercare di far fronte a questa drammatica questione che ci ha investito tutti e una novità riguarda proprio gli aiuti alle imprese, se vogliamo. Sì, diciamo che lo scorso anno ci siamo concentrati di più sulle famiglie perché quella era la priorità immediata, però quest'anno soprattutto ci stiamo invece avvicinando, ci siamo avvicinati, ci siamo interessati di quello che è la piccola attività del comune, in modo particolare i commercianti, i piccoli artigiani e quindi abbiamo fatto una convenzione con il consorzio, il consorzio vento garanzie e con i fidi imprese turismo belluno al fine di consentire a queste piccole realtà di avere dei finanziamenti di tassi agevolati e senza commissioni. La convenzione è stata già deliberata dalla giunta e verrà sottoscritta a breve, quindi invito tutti i piccoli artigiani e commercianti che avessero necessità di accedere a dei contributi e a dei finanziamenti agevolati, di farne ricorso e di interessarsi con le associazioni di categoria con i primi di settembre. Quindi anche Limana si associa come tanti altri comuni della provincia con questa iniziativa per cercare di risollevare e dal suo osservatorio privilegiato per quanto riguarda il suo comune, sindaco, come sta andando questa ripresa a parte questa situazione dell'aumento dei contagi che sempre un po' ci fa rimanere col fiato sospeso, ma dal punto di vista anche economico, che cosa possiamo dire? Diciamo che dal punto di vista dei contagi rimane un po' attalenante, un po' come tutta la provincia, ci sono dei giorni del periodo in cui siamo covid free, dei periodi in cui ritornano dei casi purtroppo. A livello economico devo dire che la sensazione che ho io come sindaco del comune è quello che le attività comunque stanno lavorando e questo è sicuramente positivo. Stanno lavorando anche abbastanza bene e sicuramente aiuta la stagione favorevole perché tante attività sono all'aperto per cui la gente che è più invogliata ad accedere ai servizi, speriamo che poi la cosa continui anche nei periodi autunnali, invernali, dove secondo me lì sarà veramente il banco di prova per vedere la situazione come evolverà. Sempre per rimanere sul tema della pandemia e anche le riconquistate situazioni, questa nuova normalità che comunque la pandemia ci mette di fronte, però tra i servizi che voi avete riattivato di recente per quanto riguarda la casa di riposo via quello sul centro di urno. Era un servizio che veniva richiesto con grande attenzione a parte i cittadini perché comunque la popolazione anche limana pur essendo una popolazione mediamente più giovane rispetto al resto della provincia ha tanti anziani e avevano necessità, avevano bisogno un po' per alleviare le famiglie chiaramente per le persone in difficoltà ma anche dal punto di vista della socialità avevano necessità agli anziani di potersi ritrovare. Siamo ripartiti col centro di urno, ci sono ancora posti libri se qualcuno è interessato e la cosa sembra che proceda nel modo corretto e con soddisfazione, speriamo continui così. Che si era interrotto proprio a causa del Covid? Si era interrotto col Covid e è stato interrotto per un anno praticamente abbondante quindi di fatto è ripreso adesso a luglio. Quindi un servizio che ritorna ad esserci, però la casa di riposo è interessata da altre progettualità La casa di riposo è il nostro centro sociale e sanitario anche del comune e puntiamo molto su questo e oltre a essere sede appunto della limana servizi e quindi della residenza per anziani è anche la sede dei nostri servizi sociali, dell'assistenza sociale. Quindi abbiamo notato durante la pandemia delle grandi difficoltà perché purtroppo gli uffici della limana servizi e dell'assistenza sociale erano in comune. Quindi gli utenti che avevano necessità di accedere ai servizi sociali dovevano obbligatoriamente rivolgersi in comune e l'assistenza sociale spostarsi dalla sua sede naturale al suo ufficio agli uffici comunali per evitare che quindi ci fossero poi problemi di contagio all'interno della struttura stessa. Quindi abbiamo pensato che era venuto il momento di investire ancora un qualcosina sulla struttura e stiamo procedendo a uno studio di fattibilità per un ampliamento che sembra un ampliamento che si aggirà intorno ai 600 mila euro come investimento quindi consistente e che consentiva di creare degli uffici autonomi per i servizi sociali e al nostro tempo di ampliare anche di qualche istanza la struttura stessa visto che comunque da questo punto di vista è molto richiesta e apprezzata e per fortuna al momento non abbiamo carenze o stanze vuote se non quelle obbligatorie previste per la normativa Covid. Ecco una problematica sindaco dobbiamo ricordarlo per quanto riguarda la casa di riposo in passato c'è stata la difficoltà anche per quanto attiene al personale sanitario gli infermieri se non sbaglio mancavano nella struttura adesso com'è la situazione? Allora come infermieri siamo abbastanza bene perché non parlo non sono troppo ottimista perché purtroppo la situazione continua in evoluzione anche alla luce di quello che avverrà di fonte a eventuali possibili diciamo decisioni che devono essere prese eventualmente dall'Ulss per quanto riguarda i vaccinati e non vaccinate perché questo ancora non lo sappiamo, noi abbiamo comunicato i nomi inattivi ma ho preso appunto i giornali che l'Ulss è attivato con i propri dipendenti ma nelle strutture ancora non si sa esattamente la situazione qual è. La preoccupazione degli infermieri però a parte questo è il fatto che ci sono tanti che stanno cercando strutture diverse, noi come Limana Servizi abbiamo aumentato gli stipendi degli infermieri per far sì che fossero paragonabili a quelli dell'ospedale e quindi dell'Ulss perché in precedenza gli infermieri che lavoravano nelle strutture per anziani avevano uno stipendio più basso, i contratti prevedevano stipendi più bassi noi li abbiamo preparati esattamente all'Ulss in modo tale che chi andava via non andasse via per un discorso economico ma eventualmente perché aveva ambizioni lavorativi differenti. Le dico però che notizia dell'altro giorno per darle un'idea un infermiere si è licenziato non per andare all'Ulss ma perché ha deciso di cambiare completamente il lavoro e stanco. Certo ognuno poi ovviamente ha i propri percorsi di vita, le scelte personali. Secondo me quest'anno la categoria degli infermieri e gli operatori successionalitari i poverini sono stati molto bastonati, hanno portato uno stress e una pressione che forse noi non compreniamo appieno perché l'abbiamo vissuta in parte ma non come loro che erano sul campo. Per cui molte volte e alcune volte può essere anche effettivamente la necessità di staccare un attimo da questo ambiente e di cambiare completamente vita ma questo crea problemi per le strutture perché chiaramente noi dobbiamo garantire un'assistenza e dobbiamo avere un minimo di infermieri e operatori altrimenti questa assistenza è difficile. E questa è una problematica comunque che riguarda un po' tutta la provincia, sappiamo la carenza del personale sanitario in generale, insomma è uno dei problemi che ci accompagna come quello dello spopolamento, insomma ne sentiamo parlare continuamente. Veniamo ad un'altra questione sindaco, parlavamo prima delle attività economiche, insomma del lavoro in questo periodo ovviamente a far da padrone anche la questione del turismo, fortunatamente insomma c'è una ripresa dei turisti sul territorio, a Limana? Sì, a Limana ci sono parecchi turisti, Limana soprattutto la parte alta, dico io, è molto battuta sotto questo profilo qua, turisti sia locali italiani ma anche dall'estero perché francamente negli ultimi anni, ma soprattutto negli ultimi due anni qui andando a Valmorel c'è anche parlare lingue straniere, cosa che magari era meno diffusa negli anni passati. Stiamo puntando molto su quello che è la parte alta del territorio, stiamo puntando molto su quello che è il sentiero Buzzatti, la promozione di Limana sotto questo profilo qui perché sapete che quest'anno ricorre il cinquantesimo anniversario della pubblicazione del libro Miracoli di Valmorel di Buzzatti ed il prossimo anno è l'anniversario di cinquant'anni della morte di questo importante scrittore e quindi Limana sta puntando molto anche sull'organizzazione di questo aspetto qui, con la ricorrezione dei sentieri, con uno sviluppo sostenibile, dico io, del turismo perché noi vogliamo quello, non vogliamo un turismo aggressivo che venga a sconvolgere il nostro territorio ma che apprezzi quello che è le bellezze naturalistiche del nostro paesaggio. Quindi natura e cultura, questo binomio si gioca. Secondo me si sposano benissimo, sono due cose che arrivano di pari passo e spero che siano il tampolino di lancio per un futuro della nostra provincia. Ci sono anche dei lavori per quanto riguarda il sentiero proprio di cui faceva menzione? Abbiamo già cominciato perché in realtà il sentiero è abbastanza adattato e quindi andava effettuato una manifestazione straordinaria. Quest'anno abbiamo cominciato e abbiamo fatto più o meno la metà, contiamo di finire i lavori di ricorrezione entro l'autunno-inverno in modo tale da poterlo inaugurare la prossima primavera proprio in occasione delle manifestazioni che saranno organizzate per i cinquant'anni della morte di Buzzatti. Parlando del turismo ovviamente è un elemento che si ricollega all'aspetto del turismo ma anche delle tradizioni del territorio è anche quello della sagra di paese che proprio è prossima con la data del 13. Parte il 13 e si studerà per alcuni weekend sempre di fine settimana, è un po' se vogliamo anche un azzardo fra virgolette ma sotto un punto di vista positivo di che è un azzardo perché comunque è difficile portare avanti una sagra con queste nuove normative e anche con questi ultimi appunto decreti legge che sono molto stringenti però sono convinta che faranno del loro meglio sicuramente adottranno tutte le precauzioni necessarie perché vada per il verso giusto la sagra. È un momento importante di ritrovare il paese e anche di ritornare un po' alla vita e alla normalità. Abbiamo tutti bisogno comunque di riequistare un po' di normalità dopo quest'anno e mezzo difficile. E ancora una volta insomma il volontariato non si tira indietro quando c'è l'occasione insomma di far del bene per il paese. E devo dire anche una cosa che non si tira indietro e io ne sono felice perché il fatto di non fare la sagra poteva essere anche un'ulteriore mazzata diciamo al volontariato. Se il volontariato sta fermo per un anno, due anni c'è poi il rischio che veramente muoia questo tipo di attività. E' un'attività che per noi è fondamentale, per tutti noi, non solo per l'amministrazione ma per la vita sociale del paese. Per cui è importante che comunque anche se non a pieno regime continui rimanere viva una fiammella del volontariato perché poi quando le cose saranno diverse riparta come è sempre fatto. Particolare è anche l'attenzione che viene dedicata ai giovani proprio in questi mesi estivi, ci sono delle attività che voi avete proposto per i ragazzi del territorio. Come tutti gli anni facciamo le squadre ecologiche, la leva civica, sono delle attività in cui cerchiamo di impegnare i ragazzi della fascia d'età dai 15, 14, 15 anni fino ai 22, 23 anni in cui ho anche qualcosa in più come età e in modo tale che siano impegnati e che in qualche modo ci colleghiamo al discorso di prima, che capiscono il senso e l'importanza di mettersi a disposizione anche della comunità. Lo scopo della leva civica e delle squadre ecologiche che in realtà poi hanno anche un piccolo compenso, che sono sciocchezze voglio dire, però deve essere quello di capire l'importanza di fare qualcosa per gli altri anche, quindi su questo profilo sono iniziative che sono molto importanti. E invece per quanto attiene il prossimo anno scolastico, sindaco anche su questo, come siete organizzati, avete difficoltà di spazi, com'è la gestione? Come spazi in linea di massimo noi eravamo a posto lo scorso anno, se non cambiano, adesso siamo in attesa di capire se ci saranno nuove disposizioni perché al momento ancora, a parte il discorso del decreto che è uscito in merito alla vaccinazione degli insegnanti, per il resto non abbiamo novità sugli spazi. Se non cambiano gli standard dello scorso anno noi dovremmo essere a posto sotto questo profilo qua. La cosa che ci preoccupa un po', come lo scorso anno, è la preaccoglienza, perché la preaccoglienza significa accogliere i ragazzi, i bambini, dalle 7 e mezza alle 8, in modo tale a consentire ai genitori di lasciarli un po' prima e andare a lavorare, è un servizio che abbiamo gestito nell'anno scorso come comune, è un servizio che è fondamentale e speriamo che rimangano le stesse regole dello scorso anno. È molto impegnativo comunque. È impegnativo perché ringrazio da un lato gli insegnanti che sono resti disponibili, perché alcuni insegnanti ci hanno dato una mano. Ringrazio i genitori perché abbiamo un gruppo di genitori veramente attivo e volonteroso che anche loro hanno collaborato, hanno dovuto fare dei corsi con le nostre responsabilità sicurezza per essere qualificati a fare la preaccoglienza e sono resi disponibili a turni per essere lì al mattino. Quindi è veramente un lavoro di squadra che è realizzabile grazie all'impegno di tutti. Mi auguro che non cambino le disposizioni normative perché altrimenti ci metterbbero sicuramente in difficoltà, ma noi contiamo comunque di garantire il servizio anche quest'anno perché lo riteniamo importante proprio per le famiglie. Sempre sul filone della cultura, dell'approfondimento, diciamo un ruolo importante lo ha anche la vostra biblioteca sul territorio che in quest'estate è molto attiva anche con proposte innovative, Sindaco. La biblioteca nostra è una biblioteca che è veramente molto attiva, voglio dire, fa parte della rete delle biblioteche, ma diciamo che ha dimostrato di eccellere in tante circostanze. Abbiamo fatto diverse iniziative con i giovedì di sera all'aperto, quindi la biblioteca teneva aperto la sera per i bambini con letture, manifestazioni, presentazione di libri. In più abbiamo organizzato sempre con la biblioteca Ritrovasi in Zappiave, che è una rassegna di eventi che in realtà si svolge, vai si svolge perché non è ancora completata, si ultimerà con settembre, sono diversi appuntamenti, si svolge sia all'interno della biblioteca, negli spazi antistanti, ma anche in giro per il paese. Abbiamo fatto delle iniziative, abbiamo fatto delle iniziative, faremo delle iniziative nel quartiere Europa, cercando di portare un po' di vitalità e anche portando in giro la cultura proprio tutto il territorio. C'è bisogno, insomma, di ritornare, vero? Sì, c'è tanto bisogno. Dalle tradizioni. Capitolo lavori pubblici, ci sono delle novità anche su questo fronte? Che cosa possiamo dire? Tante, tante. Diciamo che nell'ultimo anno e mezzo sono arrivati fortunatamente tanti contributi e quindi ci sono tante cose in ballo che si stanno portando avanti con progettazioni, alcuni già realizzati, faccio riferimento, o comunque in corso di ultimazione, faccio riferimento a Barocche, faccio riferimento a Cireserva, faccio riferimento a Cavosso, dove ci sono stati tratti dei lavori importanti di regimazione delle acque, di muri, quindi fondamentali. Ma poi ci sono anche altri contributi che sono arrivati recentemente, che sono freschi di un mese circa, che ci consentivano di fare degli interventi di drenaggi molto importanti nella zona alta di Valmurel, mi riferisco alla zona vicino al cimitero, e d'altra parte anche nella zona bassa invece i vecchi laghetti di pesca sportiva di San Poi, che erano dei laghetti che si trovano appunto a San Poi e che erano stati quasi completamente distrutti dopo il fenomeno, l'evento varia purtroppo, abbiamo preso un contributo di 120 mila euro che ci consentirà di riqualificarli e soprattutto di valorizzare quella biodiversità di fauna e flora che c'è all'interno, che è molto importante. Quindi ci sono tanti obiettivi che sono in corso e speriamo di riuscire a concludere. Ci vorrà tempo perché purtroppo sappiamo che i lavori pubblici hanno delle tempistiche che non sono immediate. Da quando si prendono i contributi a quando si realizzano ci sono dei tempi tecnici che impiegano mesi. Però contiamo insomma che da qua al prossimo anno la maggior parte dei cantieri saranno tutti avviati, se non tanti conclusi anche. Sindaco, allora non mi resta che augurarle buon lavoro a lei e a tutto il suo staff, buona festa anche per la sagra del territorio e ovviamente noi ci ritroveremo ancora per approfondire prossimamente queste tematiche. Grazie Sindaco. Grazie a voi dell'invito. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci. Grazie.